Porta questo Mi faccio ancora un paio di partite ragazzi E poi ci vediamo domani Perché sto a morì di caldo E davvero qua d'estate non si può fare un cazzo di niente Allora Questa la vedo veloce Ma noi siamo quelli rossi No siamo quelli blu Stavo già a fa la cagata Mamma mia che sto sotto a minare I tizi Ma bello C'è anche la schivata ragazzi Si schiazzatevi fa le robe con la schivata Bellissimo quando diventa Al coso Quando diventa un ciccio bombolone Pollo arrosto Mamma mia che voglio di pollo arrosto Aia No Perché io credevo che fossimo sempre a sinistra Invece adesso siamo quelli blu E ho fatto tipo i primi 30 secondi Credendo di essere Harley Quinn Quella rossa Quindi Vediamo che stavano succedendo le pezzo robe No Mai andare sottra Cazzo Signor Superman Portazzi vostra Ecco L'unica cosa che manca È anche magari un uno contro uno Contro il computer Adesso non so se si sia Però quello lì è giusto un mio vezzo Per quanto riguarda Roba di contenuti da Cristo Da portare Aia Annaggia No No scrive Bastanti Stanno avendo un minimo di Riavvaloramento Questi Stronzi Infami Mamma mia Che salva cazzo La madonna Di cattiveria Ci hanno chiuso all'angolo Tutte e due Bastardi Perlomeno Non hanno spammato Tanto come gli altri Come qualcuno ha rifiutato A pezzi le fango Una vittoria e vanno via Una botta e vanno via Ma guarda te Sti stronzi Hai sbloccato una nuova ricompensa Massacro verticale Ok la metto Allora Questa Mettiamo viola Quella stronza Non crepava E leggermente Alla madonna Cazzo su ste robe Ho fatto i pippi Mi serviva Da prendere i crediti Vabbè Sarà un altro Taz Spammatore Ok Che poi farebbe La tua squadra Infiglia più 5% Di danni Quando colpisce i nemizi Affetti dal debuff Ok Ho ancora capito bene Quelle robe qua Comunque è molto carino Come gioco Davvero molto Molto carino Ripeto Lasciamo perdere Che all'inizio Ho dovuto mettere L'account Warner Bros Di qua di là Che fortunatamente L'ho visto lo scorso Un paio di giorni fa E quindi Molto velocemente Sono riuscito a mettere tutto Anche se ho bestemmiato Perché non me lo prendeva All'inizio Però è un bel giochino Probabilmente Free to play Tech Possono giocarlo tutti Vedo che comunque I crediti Dopo non so se sia Perché all'inizio Si possono fare su Tranquillamente Potete sbloccare i personaggi Dopo non so Come saranno I prossimi personaggi Se si potranno sbloccare Solo col pass battaglia Di qua di là Però Al massimo Sono solo skin Quale sono io Quello blu Eccola là Che spamma Madonna E' fermo Jake è fermo Porca troia Si è mosso adesso Allora qui sarà anche veloce Però devo ancora Prenderci tanto la mano Porca la miseria Ma che è la moneta Chi è che caga fuori Le monete Jack Ah ma ho capito Adesso l'attacco Che fa No Madonna ma che stress Questi qua Che spammano Il figa De tornando di dio Col vergine Cristo E' la madonna E che cacchio No 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 Come match point Comunque Taz è una bestia Bene Molto bello Con giocare Contro gente Che spamma I colpi Col Cazzo di Taz Rivincita Assolutamente Di niente Per almeno questo periodo Da lunedì Al venerdì Farò live Con multiverso Strane venerdì Che la faccio Con magic Perché devo fare Il draft Verso le undici Semmai domani Inizio anche un attimino Prima Con il fatto che Comunque L'ho già scaricato Gioco Ma quanto è nana Questa Ah giustano Che ha messo velma E non ha messo l'altra Di cui non mi ricordo Il nome Sì sì Venerdì È Friday Venerdì Friday night Anche se non è night Con magic Faccio Tato Ho anche due Gettoni draft Quindi Certo Sicuramente Non le piacerà L'onor bastarda Perché è con Il draft alchemy Eh Però È Daphne Eh Infatti Mi sembra stanno Che non abbiano messo Lei Ella Ma ha detto Worshit Ah io ho messo Il linguaggio volgare E ci mancherebbe Anche che non l'ho messo Eh sì Perché faccio Il draft Dell'espansione Effettivamente Oh comunque C'è chi cane Mi piace tantissimo Mi sta salendo Mi sta salendo anche Il fastidio Che c'è la skin Nel primo pass De merda Perché Quanto dura Il primo pass C'è scritto Le giornate Allora Dice Dice che il cane Mi fa soltanto Ampiamente Schifo L'uppercut Cioè Su e Y Mi fa Abbastanza schifo Devo essere sincero Però L'ho manzato Amma mia Che tengo la fame Amma mia AKO Nova starta Che mi prende Amorosamente Come te magno E mo mette Sengula Ah ma ok Ma che cacchio Bellissimo Allora Ti avrei preferito Un attimino L'uppercut Grandissimo Black will Ah ok 8 volte Adesso devo aspettare Che si ricarica Ah No L'avevo manzato Stavo facendo La roba bella E dai E' una botta Ah Secondo cazzo Andata Daphne Nel panciino Di Tad Ah ok Ok Bello Amma mia Vittoria Qua E che cacchio Signor Barca Jake La barca E finalmente C'è la Vittoria Due Contro Due Riminsita Grandi Dato che l'avete scaricato Anche voi No Non mi butti fuori Come l'immondizia Dopo sto scontro Voglio un commento Tecnico Da Signori Di cosa ne Penso Alla madonna Te E lascia stare Il mio amico Mi sa tanto Con la mossa lì La devo fare Quando sono all'angolo Così li blocco E se poi Prendono anche Danno James Baxter Amma mia Rincorsa Aga Pocciata No Come faccio A fare lo shield O c'era Soltanto quello Là Lo shield Va il dracchi Che mette giù Anche la marmalata Ah ok Ok No perché Chi gioca smash Quello lì C'è lo scudo Che possono usare Tutti Quindi L'era un buon problema Pezzi De fango Mette magno Ah bellissimo Jackie Cannon Io per adesso Vabbè che devo ancora Provare di tutti gli altri Devo anche provare Wonder Woman Che la proveremo domani Però sinceramente Adesso come adesso Il mio main È Ah che è successo Oh Ho scorreggiato Scusate C'è sono io Ma perché faccio Una fatica In sti giorni Con sto caldo A scorrezzare Però vabbè Queste sono altre cose Soprattutto totalmente Personali Nella mia sfera Peto Petonale Magna Da Nightbot Mamma mia Che l'ho mangiata Un'altra volta Bellissimo Quando si trasforma Il personaggio Che prima ho trasformato Superman Salta su Touchman Mamma mia Che figo Diventa una casa Amma mia Superaltra Magic Victoria Touch e Jackie Cannon Hanno tanta fame Vincono un altro Scontro